Oggi è stata una mala sorpresa perché comunque la nostra regione che sembrava in un livello di contagio molto basso balza a 47 positivi in un giorno, un numero importante. Perché un numero importante? Perché per conservare la zona bianca noi dobbiamo quotidianamente ogni giorno stare sotto i 50. Eravamo mediamente intorno agli 8, 10, 15 contagi giornalieri, oggi siamo balzati a 47. Speriamo che sia un caso isolato, riconducibile a una magari specifica situazione, ma invito tutti all'osservazione delle regole che ancora sono vicenti e ad avere la massima attenzione e cautela. Perché è chiaro che proprio questi dati di oggi ci sottolineano il fatto che se non siamo attenti il rischio di una ripresa del contagio è ancora forte e vicente. Quindi massima attenzione, massima cautela, si può fare tutto ma nel rispetto delle regole che sono ormai, penso, chiare a tutti.